Come vedete sono sul vostro manuale a pagina 166, siamo nel capitolo che riguarda più in generale la concezione della conoscenza e dell'essere di Platone e a un certo punto Platone si trova, il vostro manuale si trova a ricostruire l'immortalità dell'anima, come vedete già qui abbiamo un'indicazione. Allora facciamo l'esercizio che abbiamo detto prima, quindi leggeremo il testo, nel leggere sottolineeremo i concetti fondamentali e poi costruiremo una mappa. Attenzione, la nostra mappa vuole rispondere alla domanda che cos'è l'essere umano o più propriamente che cos'è l'anima, quindi l'obiettivo non è quello di schematizzare tutto questo paragrafo, ma utilizzare quanto non leggeremo per rispondere alla domanda. Iniziamo dunque. Implicando una percezione prenatale delle idee, la reminescenza postula di per sé l'immortalità dell'anima, che divene oggetto di uno dei dialoghi platonici più ricchi di pathos umano e religioso, il fedone. Ecco, diciamo una cosa su questo dialogo, questo dialogo è il dialogo in cui Platone mette in scena la morte di Socrate e gli ultimi momenti della sua vita. Socrate discute con i suoi amici in carcere, poco prima di bere la cicuta, poi beve la cicuta e il fedone racconta anche della morte stessa di Socrate. Dunque l'ambientazione migliore per parlare dell'immortalità dell'anima. Proseguiamo la lettura. Oltre all'argomento appena esaminato della reminescenza, in quest'opera Platone elenca altre prove dell'immortalità dell'anima. Una prima, detta dei contrari, afferma che, come in natura, ogni cosa si genera dal suo contrario, il freddo dal caldo, il sonno dalla veglia, eccetera, così la morte si genera dalla vita e la vita si genera dalla morte, nel senso che l'anima rivive dopo la morte del corpo. Una seconda, detta della somiglianza, sostiene che l'anima, essendo simile alle idee, che sono eterne, sarà anch'essa tale. Infatti, solo ciò che è composto può distruggersi, risolvendosi nei suoi elementi semplici, mentre ciò che è semplice, come le idee e le anime, non può venire né creato né distrutto. Una terza, detta della vitalità, argomenta che l'anima, in quanto soffio vitale, è vita, e partecipa dell'idea di vita, e pertanto non può accogliere in sé l'opposta idea della morte. Ecco, in questo capoverso sottolineiamo adesso quanto ci interessa, i concetti che ci interessano. Anzitutto, ovviamente, il concetto di immortalità. Poi abbiamo i contrari, ovviamente, come anche la somiglianza e la vitalità. Ecco, queste sono le tre prove, anche il testo stesso ce le mette in grassetto, ma ci sono anche altri concetti interessanti. Per esempio, dove si parla della prova dei contrari, afferma che in natura ogni cosa si genera dal suo contrario, così la morte si genera dalla vita. Beh, parlando di anima, direi che i concetti di morte e vita hanno un loro rilievo. Così anche, dove si parla della somiglianza, abbiamo il concetto di idee, un concetto su cui dovremo tornare a lungo più avanti quando studieremo la gnoseologia e l'ontologia platoniche. Lasciamo perdere l'idea di composizione e di semplicità, non ci interessa approfondirlo. Quindi direi che possiamo accontentarci di questi. Nell'ambito di questi discorsi, nel fedone troviamo la nota dottrina platonica della filosofia come preparazione alla morte. Infatti, se filosofare significa morire ai sensi e al corpo per poter cogliere meglio le idee, la vita del filosofo risulta tutta una preparazione alla morte, cioè a quel momento in cui l'anima, finalmente libera dai ceppi del corpo, potrà unirsi direttamente alle idee, beandosi dalla loro totale contemplazione. Il fedone mostra dunque, in modo inequivocabile, come nella complessa anima del platonismo vi sia un momento fortemente religioso, che tuttavia non esclude il momento mondano politico, ma si integra con esso, delineando non già un platone bifronte, come talora si è detto, ma un'unica ricca personalità, in cui coesistono interessi e spinte diversi, e per la quale l'attaccamento alle cose immanenti non esclude l'apertura a quelle trascendenti e viceversa. Ecco, in questi due capoversi si dicono cose estremamente interessanti, ma che in questo momento non ci interessano più di tanto, come vedete, perché si parla del rapporto tra anima e idee, si parla in generale della filosofia platonica e del suo valore religioso e politico, sono tutte questioni che affronteremo in altri momenti eventualmente, ma che in questo momento per rispondere alla domanda che cos'è l'anima, che cos'è l'essere umano, non ci interessano, quindi possiamo tranquillamente proseguire. La teoria dell'immortalità dell'anima, oltre che per spiegare in che modo l'uomo possegga in se stesso la conoscenza delle idee, a Platone serve anche per chiarire il problema del destino. Platone ritiene infatti che la sorte di ogni individuo dipenda da una scelta precedentemente compiuta dalla sua anima nel mondo delle idee. Egli illustra la sua tesi con il mito di Er, con cui si chiude la Repubblica. Morto in battaglia, risuscitato dopo dodici giorni, Er può raccontare agli uomini la sorte che li attende dopo la morte. La parte centrale del racconto del guerriero è quella che riguarda la scelta del destino alla quale le anime sono invitate nel momento che precede la loro reincarnazione. La parca Lachesi, che bandisce la scelta, ne afferma la libertà. La virtù è libera a tutti, ognuno ne parteciperà più o meno, a seconda che la stima o la spregia. Ognuno è responsabile del proprio destino, la divinità non ne è responsabile. Ogni anima sceglie quindi il modello di vita che incarnerà. Tutto sta a compiere una scelta giudiziosa, e a non lasciarsi abbagliare dall'apparente fulgore di certe vite che celano invece il male e l'infelicità. Ma la scelta è guidata il più delle volte dalle esperienze che l'anima ha raccolto nella propria vita anteriore. Così, nel racconto di Er, Ulisse, che i lunghi travagli hanno spogliato di ogni ambizione, sceglie la vita più modesta e oscura, scartata da tutte le altre anime. Per Platone, dunque, l'uomo sceglie il proprio destino, benché sia in ciò condizionato da quel che in vita ha voluto essere ed è stato. Ecco, qui vedete, si affronta il tema del destino. Possiamo decidere, è interessante per la nostra mappa sull'anima? Potremmo dire sì o potremmo dire no. È interessante sicuramente perché, appunto, stiamo trattando un corso di antropologia, che cos'è l'uomo, quindi il destino dell'uomo. Certo che è interessante, ci riguarda tutti. D'altra parte potremmo anche dire no, noi stiamo parlando solo dell'anima. Ecco, vedete quello che dicevamo nei video precedenti. La mappa è personale, dipende da come ciascuno di noi, leggendo e studiando, recepisce quello che legge e studia, quello che ritiene importante, quello che ritiene meno importante. Io direi che, per fare l'esercizio che ci stiamo proponendo, possiamo fermarci qui. Siamo ora pronti per fare la nostra mappa. Userò questa applicazione, Inspiration, che potete utilizzare, è molto simpatica, permette di fare tante cose colorate. Il limite che ha un costo, che rapportato da altre app, è piuttosto consistente. Però, potete provare la versione gratuita. Anzitutto, dunque, ci segniamo tutti i nostri concetti. Li scriverò nell'ordine in cui li abbiamo trovati nella nostra lettura. Dunque, il concetto di anima, il concetto di immortalità, il concetto di contrari, il concetto di morte, il concetto di vita, il concetto di somiglianza, il concetto di idee, e il concetto di vitalità. Ok. Qui abbiamo tutti i nostri concetti. Ora, ce ne sono alcuni fondamentali e alcuni di minor rilievo. Ovviamente, il concetto fondamentale è quello di anima. Cominciamo a mettercelo in alto. Poi abbiamo il concetto di immortalità. L'anima è immortale. Giusto? Questo è il concetto fondamentale, la tesi fondamentale che Platone ci vuole illustrare. E poi, vi ricorderete, abbiamo letto poco fa, abbiamo le tre prove. la prova dei contrari, la prova della somiglianza e la prova della vitalità. Infine, vi ricorderete che la prova dei contrari fa riferimento ai concetti di vita e morte. Spostiamoli un po' più in qua in modo da avere lo spazio per mettere tutto. e il concetto di somiglianza fa riferimento al concetto di idee. Ecco, una volta che abbiamo fatto anche la nostra gerarchia, possiamo collegare i nostri concetti. Allora, siccome dobbiamo collegare il concetto di anima al concetto di immortalità, potremmo scrivere una cosa come l'anima è dotata di immortalità. O, se preferite, meglio ancora sarebbe è caratterizzata da immortalità. E poi abbiamo le nostre tre prove e potremmo scrivere, appunto, prima prova, seconda prova e terza prova. Ok? A questo punto, qui potremmo collegare il contrario a tutte e due, ma non solo, mostrare come la vita e la morte si generano l'una dall'altra. Quindi potremmo scrivere in entrambi i casi si genera la vita si genera dalla morte, la morte si genera dalla vita. somiglianza. Somiglianza. La prova della somiglianza, somiglianza con le idee. Ok? Per la vitalità, vi ricorderete, il testo diceva una terza prova detta della vitalità argomenta che l'anima, in quanto soffio vitale, è vita e partecipa dell'idea di vita e pertanto non può accogliere in sé l'idea opposta della morte. Ecco, qui tornano i concetti di vita e morte e noi li abbiamo già segnati a proposito dei contrari. Come possiamo esprimere? Dovremo collegare l'anima, o meglio, il concetto di vitalità con il concetto di vita. Ok? Vitalità. e potremmo scrivere l'anima esprime la vita. Ok? Ecco, come vedete in maniera abbastanza semplice siamo riusciti a fare la nostra mappa. Poi potete fare potete fare qualcos'altro. Ok? Potete per esempio cambiare i colori. Ok? Per distinguere tra loro i vari concetti e anche i vari livelli di concetto potreste utilizzare i colori diversi. Ok? Allora abbiamo un colore per l'anima un colore per l'immortalità un terzo livello che è quello delle prove e infine altri concetti. Potete anche cambiare il carattere e ingrandire per esempio ingrandire per esempio le dimensioni fare un grassetto ok? Fare un corsivo per far capire di cosa si tratta. Ok? Ecco come vedete in questo modo abbiamo una semplice piccola per il più semplice mappa che ci permette di visualizzare di visualizzare la concezione platonica dell'immortalità dell'anima. Come vedete qui non appare il titolo della dell'argomento. Dove lo possiamo mettere? Lo metteremo esterno qui diamo un titolo al nostro file. quindi l'anima secondo Platone. Ecco in questo modo abbiamo visto un breve esempio di come costruire una mappa concettuale. di un'anima di un'anima di un'anima